Grazie, buon pomeriggio. Vi voglio dire la situazione a peso, perché sono andato dalla nutrizionista a pesarmi e vi dico subito che ero 114,5, cioè praticamente facevo schifo e oggi attualmente sono a 103,8, quindi qualcosa di più di 10 kg e direi che sono molto felice. Ok, ciao! Grazie mille. Adesso sto a fare la scheda. Ho appena fatto 10 minuti di stigletto. Vediamo il prossimo esercizio. Fratma Peppe e Isutore, cosa mi consigliate di fare? Vai! Ragazzi, sto con Fratma Peppe e Isutore! Come lo devo fare questo qua? Allora, ci siamo andati a vedere? Vediamo un attimo la pizzerina come sta, vai! Vediamo un attimo. Tantinino. Guarda, guarda che sto dal medico. Ok, a dopo, grazie. Grazie. Si continua a lavorare per le gambe. Quindi, cambiamo e faccio vedere le cose che faccio durante la giornata. A dopo, ciao! Ragazzi, niente. Adesso ho terminato la palestra. Ora mi vado a fare una grande doccia e poi dopo la mangio. Ok, ciao! Grazie. Ragazzi, tornando con la palestra, guardate qua. Questo bel platto. Va bene. Buono. Molto buono, molto buono. Ottimo. Ottimo. E' ottimo. estate un po' Stando per un ciotto. Ultimo ok ciao